Sì, sicuramente l'inizio del partito è stato buono per noi, non abbiamo sofferto praticamente niente, da dentro il campo si sentiva che non ci potevano fare male, invece la prima occasione hanno fatto gol e noi certamente non siamo stati precisi oggi, però stiamo parlando di una sconfitta molto pesante, molto brutta, spero che non ci faccia male per il morale perché è difficile. Sì, sicuramente la partita col Palermo è decisiva per il nostro campionato, poi magari c'è i stimoli perché è una partita che abbiamo giocato anche l'anno scorso in Serie A, è una squadra che lotta per salire, quindi sarà una bella partita e spero di vincere, dai, speriamo di vincere.